ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi sono stra felice perché oggi massacremo mio papà ma cosa oh come massacrare il tuo papà ma come vorresti fare quindi se siamo in squadra insieme come fare uno contro uno contro uno contro uno proviamo tutti contro tutti ok proviamo per la prima volta vediamo che cosa succederà meglio abbiamo comprato meglio che Ale piace anche se Ale adesso vorrebbe anche Queen Knight ma io prendo petra ma che cavolo ma qua c'è una stellina come vedete c'ho una stella la spada e la velocità che mi piace più la spada ma qua non ho ancora capito perché ma è venuta la stella io combatto così ma perché qua c'è una stella boh è classico la stella è classico vuol dire colore classico oh io non so cosa succeda qui eh mi sa che saremo uno contro uno contro uno contro uno quindi tutti contro tutti amici per chi fate il tifo eh per chi fate il tifo per me mi raccomando per me no no per me per me sono quella verde ma sei venuto già colpire il papà ma abbiamo zero vite quindi solo una vita ma forse va a punti a quanto uccisioni te fai a quanto uccisioni te fai io vi ho buttato quello bene ci siamo andati addosso bene a prendere l'arma oh eccone qua una io sono il verde vi ricordo eh ma che cavolo ho buttato fuori una ho fatto due punti e quella che è stata eliminata ne è apparso uno ecco di quale ti colpisco no t'ho buttato fuori non dovevi massacrare il papà eh non riesco a salire venite qui se non prendervi questa arma non mi interessa ahia ma perché non riesco a salire no no papà pupà 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 peppy mi hai eliminato oh mi hai massacrato questa mi ha fregato l'arma peppo pippo Ma che cavolo Ciao Ale Ti ha eliminato la petra azzurra Però Io faccio onde energetiche Kamehameha Kamehameha No non c'ho più L'arma Kamehameha Vieni a prenderla Kamehameha Dai Ma perché Dai Super pugni Ti faccio una bella sorpresa Dai basta Ma lo smetti Ti elimino Basta Ti sbatto per terra Basta E' stata l'altra petra Mancano dieci secondi al termine C'è il tempo No Si l'ho eliminata Appena in tempo Io ho 5 punti E ho vinto E sapete cosa vi metto? Un bel rip Ah ma aspetta E io mi metto E io mi metto Allì Primo e ultimo Facciamo un'altra Sì però Insieme o contro il papà Che volevi massacrarla Ne voglio fare Oh un colore Nuovo colore per Ale Quindi vuoi farne un'altra Allora Puoi uscire che voglio provare un'altra cosa Stiamo insieme? Puoi uscire Voglio provare un'altra cosa Dove andiamo? Allora No Facciamo quello Facciamo quello Questo Proviamo E' un uno contro uno E si provano delle cose nuove Ok Però non ho idea di cosa sono Ok E' praticamente il laboratorio test Ah Io non posso entrare però Saresti da solo Ale Puoi provarla da solo? Ok Ok Quindi amici Ci sarà Ale da solo Io farò il tifo per Ale Con Queen Knight Eh sì Che colore ti scegli? Allora Tu Questo colore qui? Sì Ah Schermata di caricamento Contro Barrata Barrata Non l'ho mai Non l'ho mai visto Barrata Ma è uomo E si neri Avevano scritto in giapponese Vediamo in che cosa consisterà Questa modalità Intanto c'è un'arma Bravo Ale L'ho presa per primo Lui ha preso una mega ascia Forza Ale Vattene via Cosa vuoi provare a fare Ale? Come vuoi provare Hai buttato via l'arma Volevo vedere come succedeva Ha preso delle pistole lui Occhio occhio Sei rosso con la vita Hai preso due lame Al posto delle mani Mi piacciono tuttissime questi I doppi e lame Maiale Forza Lui è diventato arancione Come vita Ah Ma come non lo fa? Due vite a tre Forza Una bella bomba Prendila 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 Poi gliela attiri Sei giallo con la vita Ale dovresti colpirlo Per iniziare Sai? Sì ma non mi fa prendere le cose Non farti fregare Colpiscilo anche Voglio la bo- Ecco l'hai già buttata Lui cambia arma Tante volte Anche per fregartela Hai capito? Vedi? Non vuole che tu prenda l'arma Hai capito? Aia Hai l'ultima vita Continua a cambiare armi lui Per non fartele prendere Hai capito? Puoi prenderla Puoi prenderla Grande No Ale un commento su questa sconfitta E infatti Un commento? Cosa dici? Rip Ok amici Abbiamo provato anche questa modalità Salutiamo tutti Ciao Alla prossima Ciao Ciao